Dopo 48 ore di ricerche i carabinieri sono riusciti a rintracciare l'investitore di Antonio Cardonia, 56 anni, di Monte Corvino Rovella, investito mentre era a bordo della sua bici ed ora ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Salerno. I carabinieri della stazione di Monte Corvino Rovella, dopo il sinistro, hanno avviato prontamente le ricerche, riuscendo ad individuare il proprietario dell'automobile. Si è scoperto che l'uomo, residente a Battipaglia ma domiciliato a Giffoni e Vallepiana, stava cercando di acquistare dei pezzi di ricambio per la vettura al fine di mascherare il sinistro. L'auto, infatti, è stata ritrovata presso una carrozzeria di Bellizzi. Il 48enne è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere di lesioni personali ed omissione di soccorso.